Qual è il ruolo di queste tematiche nel contesto della segreteria? Il Radio Democratico è un'associazione di governo a tutti i livelli, a livello nazionale, è qui dove siamo ospitati, a Bologna, in Emilia Romagna, ritiene che il settore agroalimentare sia fondamentale per lo sviluppo del Paese. Lo è anche dal punto di vista culturale, perché la cultura del cibo, dell'agricoltura, dell'agroalimentare, la cultura della manutenzione ambientale legata all'agricoltura, sono parte molto importante dell'identità del Paese, vanno in quanto tali promossi e salvaguardati. E poi sono una grande occasione di prezzi economiche, di export, di lavoro, di sviluppo. Quindi noi, come è noto, abbiamo in campo una serie di iniziative a tutti i livelli per sostenere la nostra agricoltura, sostenere le nostre esportazioni, sostenere il nostro settore agroalimentare, e credo sia significativo che una terra come Emilia Romagna, come Bologna, Bologna peraltro sta per realizzare il FICO, che è un progetto che avrà proprio al centro, insomma, il tema dell'agroalimentare, il PD abbia deciso di ospitare, per merito prima di tutto di chi con grande capacità segue questo tema in segreteria nazionale, di ospitare un appuntamento di riflessioni così significato.